La nostra speranza è puntare tutto sulla tua forza, imporla sempre per tutto il combattimento. Con colpi pesanti, carri armati, bazzucati, cannonate, dovrai bombardarlo, scuoterlo dalle fondamenta. Ogni volta che lo colpirai, lui dovrà credere di essere stato travolto da un treno in corsa. Yeah! E chi sarà a innescarle tutte queste bombe? Grazie a tutti! E chi sarà a innescarle tutte queste bombe? E chi sarà a innescarle tutte queste bombe? E chi sarà a innescarle tutte queste bombe? Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!